Per le vostre libere ricerche dal sito web www.tinelli.eu scorrete col menu a tendina che trovate in alto a destra per approdare al fornito indice alfabetico dove trovate oltre 2500 voci dei video con le mie ricerche o le mie traduzioni per fare le vostre indagini personali e scoprire la fantastica palla della palla. Per i pigri le pigre, indottrinati le indottrinate, i credenti le credenti, rimanete pure a crociolarvi come una rana bollita nel sistema menzoniero. Ma per i curiosi le curiose avete a disposizione la possibilità di sollevare finalmente il pesante tendone che nasconde il retro della scena dove vi attende la verità e la verità vi rende liberi, libere. Fra pochi giorni entriamo nel 2023. Dal 23 al 27 gennaio del 2013, quasi dieci anni fa, il sistema aveva già programmato tutto quello che sarebbe dovuto accadere. Ce lo mettono davanti, sempre, ma i ciechi non vedono e soprattutto non capiscono che tutto quello che succede fa parte del piano di un'entità non umana capace di modificare e trasformare il meraviglioso Regno Piano che ci ospita. Quello che segue è il video del 2013 del World Economic Forum e riguarda il rapporto sui rischi globali. Illustra come oltre mille esperti dell'industria, del governo e del mondo accademico vedevano le minacce più urgenti che il mondo avrebbe dovuto affrontare nei prossimi dieci anni. E come dicevo, ci siamo ormai. Ma la mia domanda è, queste mille persone, questi esperti, sono andati a Davos in Svizzera non per parlare, ma per ascoltare, meglio, per ricevere le informazioni dettate da coloro che hanno deciso la vita del popolo mondiale. In quel meeting è stato diffuso come venivano percepiti 50 rischi globali in termini di probabilità, di impatto e di interconnessione. Ecco il video, già lo sapevano. Il pericolo delle attività online possono diffondersi rapidamente e svilupparsi velocemente come un virus resistente al farmaco attraverso i confini. I gas serra rilasciati fuori in un angolo del mondo possono causare il tempesto in un altro. Dobbiamo affrontare in modo crescente i rischi complessi che hanno conseguenze globali. Il rapporto sui rischi globali 2013 del World Economic Forum analizza le possibilità degli impatti percepiti e interconnessi di 50 rischi globali. Abbiamo diviso questi 5 rischi in 5 categorie. Economia, ambiente, geopolitica, sociale e tecnologia. Il rapporto ha identificato 5 centri di gravità. Sono i rischi che hanno i maggiori effetti e c'è un rischio per ogni categoria. Sono il grave fallimento finanziario sistemico, il fallimento dell'adattamento al cambiamento climatico, il fallimento della governance globale, la crisi della fornitura d'acqua e il fallimento critico del sistema. Il rapporto esamina tre casi di rischio maggiori. Testare la resilienza economica e ambientale, l'esplosione digitale in un mondo iperconnesso e il pericolo della tracotanza della salute degli umani. Il rapporto inoltre evidenzia 5 fattori X. Preoccupazioni emergenti con conseguenze incerte. Sono il costo di vivere più a lungo, il cambio climatico fuori controllo, importante potenziamento cognitivo e la barbara diffusione della geoingegneria e la scoperta della vita aliena. Lo speciale rapporto di questo anno si focalizza sulla resilienza nazionale, prepara la struttura per nuovi strumenti su come misurare bene i paesi così come i rischi globali del meteo. Il rapporto sui rischi globali 2013 offre l'opportunità di esplorare i rischi di oggi e di partecipare alla conversazione sullo sviluppo di un mondo più resiliente per il domani. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.